Grandissimo successo di pubblico anche quest'anno all'Amazon Day, la rassegna che l'azienda leader di Vallade Riese Pio X organizza come vetrina di novità delle attrezzature per il lavoro agricolo. La concessionaria Amazon commercializza e distribuisce macchine per l'agricoltura, per il giardinaggio e il movimento terra da oltre i 30 anni. Noi distribuiamo trattori del marchio Same, Deutz e Lamborghini, sollevatori telescopici dell'azienda Merlo, trince siamo venti e attrezzature per la finagione del marchio Crone e per quanto attiene il movimento terra abbiamo da qualche anno il marchio Volvo. Presenti tutti i marchi più prestigiosi con novità ed imperdibili offerte, fra tutte SDF. È un'azienda presente in tutto il mondo, sia con filiali commerciali che con stabilimenti di produzione, che oggi fattura circa un miliardo e mezzo. Produciamo in Italia, in Germania, in Francia, in Croazia, in Europa, mentre siamo presenti con due aziende e due stabilimenti in Cina, in India e in Turchia. Abbiamo rinnovato tutta la gamma dei fruttetti, sia nelle versioni da vigneto, da frutteto, anche quelli lacchi e abbiamo fatto un notevole miglioramento anche della gamma del campo aperto, lanciando i nuovi Explorer, la nuova 6.5 Deutzfahr, 6 e 7 fino a 250 cavalli. Di fatto abbiamo rinnovato il 60% delle macchine vendute quest'anno. Al Mazon Day, anche Crone, con la gamma dei nuovi modelli. Diciamo che Crone ormai è leader a livello europeo, ma anche a livello italiano nel settore della Fienagione e quest'anno per il secondo anno siamo primi nelle vendite in Italia delle presse quadre e quindi direi che era giusto ed uopo essere qua presenti con una grossa esposizione di tutte le nostre macchine, che non ci limitano solo nella Fienagione, ma anche alle mie spalle nella Trincia, che è la punta di diamante della nostra produzione. E ancora Maschio Gaspardo con le sue macchine operatrici. Maschio Gaspardo è una tra le più importanti aziende nella produzione e vendita di attrezzature agricole nel mondo. Abbiamo siti produttivi in Italia, in Romania, Cina, India e società collegate sia negli Stati Uniti che in Asia che si occupano della vendita di prodotti quali macchine per la lavorazione del terreno, semina, diserbo e macchine per il trattamento dei prodotti da Fienagione. Vorrei ringraziare Abramo Mazon e Giancarlo e tutto il suo team per la splendida giornata e per questo evento che è diventato ormai un evento istituzionale nell'area del Trevigiano. Per finire Mazon for Africa, dove la grande concessionaria sposa la solidarietà.